La tigre del farweb che gioca a minecraft con quel volume che c'è Luke 43 Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio con la Prisprimula Strancompon Sono in compagnia di Chip e Chop Ciao a tutti ragazzuoli E non so per quale motivo c'è anche Peppo Mi sono infilato a Bussi No ragazzi a parte di scherzi c'è anche Peppo Eh che facciamo oggi? Oggi andiamo a expare Andiamo a expare Ok E dove andiamo ragazzi? Voi avete un'idea? Boh Io dove possiamo andare Un'idea venite con me Ragazzi andiamo un po' lontanino oggi a expare Vi va bene? Sì 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 Io conosco un bel posto venite con me Vai 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 Allora Aspetta come era così? Che crafti di bello? Eh ora vengo una a testa Che cosa? Tutto a una Aia E l'altra a Peppo Oh una barca Sì Andiamo un po' lontano ragazzi Si è seguito a me Che io so Mi chiamavano il Il ma Il re dei mari Il re dei mari Ma chiamavano il re dei mari? Dai Zippe Oh questa sta caricando Ecchi me Ecchi me hai chiuto la porta No Dai esci Dai andiamo Andiamo Allora Dai signor re dei mari Ragazzi è lontano A parte lontano Allora andiamo Qua Aspetta vai Io la seguo lui Ci siete? Sì sì Andiamo di qua Dai Sì sì Andiamo No No Vabbè proseguo a nuoto io vai Andiamo di qua Ok Ok Mi hai fatto girare la barca Va bene va bene Io ho sbattuto contro un pesce lui Anch'io Andiamo Gira Tira 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 Che sta facendo Vabbè Che sta facendo quello? Siamo arrivati eh? Oh Ah Ah siamo Ah Che ne dite il suo posto qua? Bellissimo Non ci sono venuto mai prima d'ora Io comincio Guarda Ecco da ridi dai Ragazzi mi hanno detto che come un ferno devo attaccare i pokemon d'erba anche Perché faccio il doppio del danno No il doppio Sì vabbè quella cosa lì del danno Ma io non c'è un chanrmender scimmiaesco non ho capito Mamma mia Mille di esperienza E voi non è spazio? Voi che fate nel video? Eh Oh la farfalla che M***a è 37 Te Eccole ottero Ci provo È piccione Mazzalo Mi avevo sciottato M***a è un chanrmender scimmiaesco non ho capito Ma che cazzo ridi? A proposito A proposito Che cazzo Oddio ma C'è? Non c'è Che succede? Ai Ai Serpenter Come l'hai chiamato? Serperior Serperior Sì ma cosa vuoi di Josep Entryker Guarda lui guarda che ti regalo Aspetta aspetta fammi andare a caricare Lo sciamano lì come si chiama Lo sciamano Attenzione Guarda lui che ti regalo Non posso girarmi sono bloccata nelle visione Eh vabbè te li butto là davanti allora guarda Una per te Una per te Una per te Guarda qua Sì ma mi stai regalando gli stacchi di ginocchia rotta Chi c'è giù la farm Eh vabbè c'è la farm ma non ce l'hai grosso Quanto la mia Ma io c'ho la cottura automatica Quella che tu non hai Sono già cotto queste cose Devo cuocermi C'è la cottura automatica Sì vabbè ma tu guarda tu adesso metti Ah tu c'è l'imbuto che caga sulla fornace Ma la fornace caga sulla chest Eh certo Non è l'unica vieni No tu c'hai le cagate automatiche Vieni con me Vi faccio vedere una cosa che sto ancora finendo di progettare Perché è un cuocitoio Però di vetro e stone Perché poi dovrò farmi la palestra È un cucitorio Vieni qua Chiudi la porta che entrare Abbiamo perso chip Secondo biscotto prendilo Tranquillo Eh sì dai uno lo accetto Dai che l'altra volta Non me ne sono rimasti Ok vai Eccolo qua Ci sono ci sono Oh non trovo un pokemon Oh Verano Vedi Oddio che cos'è Il cucitoio Oddio il cucitoio Aspetta come funziona No aspetta Sto facendo la stone Il vetro eccetera eccetera Oddio ma è geniale sta roba Sì perché noi poi abbiamo la caverna Vieni Della caverna poi dovrò fare tutto la Lombardama Che sale sopra direttamente Perché io anche nelle serie normali Dove cercare il tecnico Vieni qua Vieni Guarda qua c'è del carbone Vabbè no dai te lo lascio Del carbone ma sei scesa Ora una volta che scendi A sia a sinistra che a destra Troverai dei conicoli Oddio No ma è bellissimo Oddio ma è fantasma Dobbiamo continuare Sì infatti dobbiamo ancora continuare No ma è bellissimo È stato andando avanti di due così Sta parete la vedete sia qui che qua No Qui ci sarà un conicolo Bellissimo Qui ci sarà un conicolo Vabbè qua ci sarà un conicolo Dai l'ho capito No fantastico come roba Fino a quando non si trova La lavatura avanti Perché i conicoli Sono tutti lunghissimi Poi arrivi qua Se trovi ferro oro Arrivi qua Te lo cuoci direttamente Dobbiamo già la vedi Il carbone eccetera eccetera Oh geniale Cioè ma no Ma te che ti ha dato No ma è bellissimo No infatti noi siamo esperti ormai Comunque io adoro sta scala Per due motivi Vediamo se Chip lì sa Dai oh Chip Ci metti un secondo A salire centro No no Uno c'è la scala E due non sbatti la testa Ah io scusate Ah beh Ah quando sbatti la testa Non sopporto Vabbè Ma ci devono fare noi Il formaggio Chiediamo la chat Ragazzi andiamo in caverna Andiamo a spare Ah già non so In live No Dai andiamo Chip 2,6 Vieni l'orto Di nonna Catarina Nonno lì Eh io sto tu D'altra parte Dai guarda Lui sta la farla Ah fresca Ah si è andata Casi su Andiamo di collo Bravo 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 Aspetta Chip Fermo C'ergo te Perché non C'ergo C'ergo te Perché non va No 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 Chip No no vieni qua Chip Devi vederlo Non va Eh non va Non va Non va Ma vaffanculo Erano le piume Volevo attaccare Un bagno Ma che cazzo ridi Madonna È tuo Ma è suo Ma mi pare Crink Mica per un attimo Ti stava attaccando Con Con Sì mi chiamo Un 37 quello Ma di piede O di Mi fa male Ma vedi che sono fortissimo Mica il 43 Questo c'è E cazzo va Futuro che lo compro le scarpe Ok eccolo qua Boom Fai Ma che sta attaccando Cazzo ridi Cazzo ridi Che cosa ridi No non ho capito No futuro Che cosa Non ho capito Anch'io Oh Oh Ho sbloccato Un'arma Oh Ho sbloccato un'arma Normal 30 di danno Però è normal C'è io c'ho due fire È una lotta Cioè La butto Sì ma devi dirmi il nome Feint 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 Ah feint Quella di Mirror Sage L'altra normal che ho Fa 40 di attacco Però vedi Potrebbe fare Effect on do Detect No io la butto Lo so che magari sbaglierò Io la butto ragazzi Non mi insultate Non mi insultate No feint Non so che sia Feint Ma secondo me È l'amica della flint Magari da fuoco Allora Ma what the fuck Oddio no raga No 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 Oddio Ma che cazzo di spavento È bruttissima No vabbè Vulpix Io ormai non te voglio più Dai Poi puoi urlare a bassa voce Ma io dove becco Il pokemon d'erba Sull'erba Eh i pokemon d'erba Sì le trovi Pepo Tu non ce l'hai Il pokemon volantile Eh no Ho trovato un pokemon Che vola fighissimo Ragazzi Venomot No Venomot Vieni qua Te lo catturi Te lo catturi Sì ma non ci si può salire Venomot Te lo catturi Sì ma non ci si può salire Ma vola Te lo catturi Venomot No ma è morto Eevee Eh S'è una checca Lui c'è Lu 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 Ma puoi trovare Puoi trovare Per lo sprout Lu Oh ma io nell'inventario Ragazzi C'ho l'intenfinder L'intenfinder Cos'ha l'intenfinder È quello che ti segnala Quando trovi le cose Ah è vero È vero Ma come funziona Come lo segnala Fa colori Suona Eh sì sì Suona suona Fa pip 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 Ah no possiamo andare in giro A cercare queste robe Nel prossimo episodio Sì infatti Sì sì Ecco Joltik No è un pokemon Eh E Con le 8 euro elettro Lo vuoi chottato Perfetto bravissimo Grazie Ahahahah Qua dovresti trovare Sì Dillo Bello sprout La spraight Sì ha sprite belsprout puoi trovare e vicino vittri belle no è la terza evoluzione ma sono tutte malattie o sono pochi no no perché sto usando 7 per your run è perché ruble un pochino acquatico mi sa è debora contro il fuoco e mi parte automatico superior avrei cliccato il tasso che ti leva i cosi ora ma un fermo vabbè non lo so ragazzi comunque ma donna che il cagliari che l'ho fatto domani c'è un ucciso un caverna e cammene vediamo madonna che caverna ma c'è l'ascensore visto sì sì ma qualcuno ha messo un query qua che cazzo è sta caverna no chip che ti stai perdendo no dove siete una caverna gigantesca ciao pepo sono entrato di la e sono uscito di qua ma siete vicino alla giungla ma io sono morto nella lava nell'episodio basta ma in caverna di onda anima toverlo mai no ma andiamo in caverna no ci sono minerali in caverna eh mica ci sono minerali c'è mica questa di vendita e fai meglio sordi eh eh aspettate che faccio l'ultima sfida e poi c'è ragazzi allora ci vediamo al prossimo episodio scusami andare in caverna no dai no 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 nel prossimo episodio sì io devo catturare un pochino a tutti se ne frega e allora che facciamo adesso chiudiamo l'episodio eh sì dai non mi piace mischiare le cose perché io l'insalata la mangio con i pomodori con le mozzarella e cioè mischiarli è un casino cosa c'entra e c'entra c'entra pensa chiedi la tua mamma chiedi mamma come si fa l'insalata da luca e lui e pepo in cip e tutto un bacione e un abbraccio mangiate bene perché la vita è sana ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti